Allora, siamo in collegamento con uno degli uomini che ha guidato la ribellione contro Green Pass a Trieste, si chiama Fabio Tuiac, è un ex pugile, è un portuale, adesso ha il Covid e si trova a casa. C'era Francesca Fagnani che voleva farle una domanda a Tuiac. Era una curiosità, siccome lei ha detto che il coronavirus come altri virus sono la punizione per la perversione degli omosessuali, omosessuali, lo dico io perché lei ha usato un altro termine, per proprietà transitiva, volevo capire, visto che adesso il Covid ce l'ha lei, non so se voleva dirci qualcosa, se ha capito delle cose su di lei. Sì, allora ho capito molto bene, io ho citato solo un rabbino israeliano, spero lei non sia antisemita, questo rabbino israeliano ha detto, c'è una persona che ha detto che il Covid è una punizione. Lei la sostiene questa tesi, ma siccome il Covid adesso ha preso lei, siccome il Covid adesso è lei. E io ho detto, forse ha ragione questo rabbino. È una punizione anche per lei? Ma non è vero però, Tuiac non è vero, forse la febbre la fa confondere. Forse, diciamo che forse nella giornata in cui il decreto Zanna ha subito uno stop importante, voglio dire. Cito le sue frasi esatte. Lei dice, si ha perfettamente ragione a dire che il virus sia una punizione divina dovuta alle perfezioni dei froci, dice lei, e ora capisco perché nel Medioevo che ha dettato l'apice della cristianità, li mettevano giustamente a rogo. Quindi chieda scusa, non faccia come amici che si vergogna di quello che ha detto, perché almeno lei pensava che fosse coerente. Un attimo. Senta, allora, mi dite, io sono stato perseguitato come nessun altro. Avevamo in rogo fino ai mila o a mila ottocenta eroti. Nei paesi africani c'è ancora delle cose. C'è ancora Nigeria, la prima di morte, Pakistan. Questo è un dato di fatto. In gran parte dei paesi, tutti i paesi musulmani, e buona parte dei paesi cristiani dell'Africa, c'è il cancro, è duro. Cosa vuoi che ti dico? No, lei augura il rogo. Che c'entrano i paesi africani? Lei augura il rogo e dice che è una forma alta di civiltà. Lei smentisce di aver scritto questa cosa o no? È semplice, capisco che siete tutti un po' confusi per il virus. Non l'ho mai detto. Lo ha scritto. Non l'ho mai detto, non l'ho mai detto. Ah, anche, scusi, ma anche sulla storia di Gesù, scusi, anche quella storia di Gesù ebreo, anche quella storia che Gesù non è ebreo, anche quella è un'invenzione. No, Gesù Cristo è stato generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, grazie a la Santissima Vergine Maria, quindi Gesù Cristo è Dio, stato generato e non creato della stessa sostanza del Padre, grazie alla Santissima Vergine Maria, l'unica donna nata di Gesù. Lei ha detto che Gesù Cristo non può essere ebreo. Sembra l'eretico dell'Ebreo. Cioè, capisce? Mi sembra ritornare ai tempi della rosa. Dico, l'eretico dell'Ebreo. Nel presente è Ecol. Ho bisogno di molto riposo e di molto limone. Vabbè, senta, siccome la sentiamo molto male, vi chiedo la cortesia, se può parlare vicino al suo microfono, perché sennò è complicato. E se poi prima di parlare può anche pensare, è una meraviglia. Ma lei ha detto che non esistono le vittime. Scusi, un altro dubbio. Un attimo. Lo so che voce tutti altri e comunisti, però, per la religione cattolica, Gesù Cristo è Dio generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Scusi, ma insomma è la stessa Bibbia che dice che Gesù Cristo era ebreo. È la stessa Bibbia. Abbia pazienza. Abbia pazienza. È la stessa Bibbia. Appena è nato, gli ebrei lo volevano uccidere. Questo dice la Bibbia. Leggetemi un po' il Vangelo, cosa dice? Legga il Vangelo secondo Matteo. Vada a leggersi il Vangelo secondo Matteo e capisce tutto. Ma perché? È un problema per lei essere ebreo? Scusi, ma per lei è un problema essere ebrei? Cosa? Per lei è un problema essere ebrei? No, assolutamente era una questione non di certo di razza, ma di viciosità. Infatti la conversione degli ebrei era fino agli anni Sessanta la cosa più importante della religione cattolica. Adesso qualcosa cambierà. Anche qualche anno prima. Senta. Liliana Segre la conosce? Sì. Ha detto lei che Gesù Cristo era ebreo. Io ho detto che Gesù Cristo non era ebreo. Gesù Cristo è stato generato e non creato la sostanza del Padre perché Dio. Questo dice il mio catechismo, questo diciamo ogni giorno a Messa. Chi me lo dice non è cattolico. Sarà una persona, non è cattolico. Vabbè, allora, ognuno dà le sue versioni. Le ripeto, legga il Vangelo stesso, anzi scusi, legga la Bibbia perché è proprio nella Bibbia che si parla del Gesù. Vambeo, legga la Bibbia. Però scusa, può anche guardare solo le figure, no? Ora leggere, mi pare un parola. Ho un dubbio, sempre da lei.